A rischio per il caldo un milione tra cani e gatti e altri animali domestici, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, AIDA, ha stilato un elenco di consigli pratici che proteggono in particolare i cani obesi e quelli appartenenti a razze più esposte al pericolo AFA, come i molossi. Secondo l'AIDA, ogni anno sono almeno 700.000 infatti i cani che rischiano malattie e tra questi lo 300.000 cani e gatti anziani, cardiopatici o obesi. Ecco allora come prevenire problemi e far vivere bene gli animali nonostante la calura estiva. Importante è la dieta, ne va mantenuta una equilibrata e molta acqua fresca, ma non freddissima per evitare possibili congestioni. Bisogna tenere l'animale in zone ombrose ed evitare, in caso dei cani, di portarlo in spiaggia o a fare la passeggiata quotidiana nelle ore più calde e comunque munirsi sempre di una bottiglietta d'acqua.